Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati dal vostro Little Dante. Oggi ci ritroviamo nella vita reale. Infatti camminerò sempre dritto finché non trovo un ostacolo. A quel punto il video finirà. Ma prima di iniziare con il video vi invito come al solito iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdervi nessun contenuto. Detto questo, iniziamo. Ok, ci attestiamo a camminare sempre dritti. Mi è venuta in mente questa idea con il mio fantastico cameraman, il signor Riff. Ciao! Di fare questo challenge un po' all'aperto, del video finisce, lo devo vedere sempre in camera e viene la video in avanti, ma devo vedere in camera io. Quindi finché non troverò un ostacolo, anche che sia una persona o banalmente un muretto, continuerò il video. Ma invece lo troverò questo ostacolo e il video finirà. Possiamo vedere che davanti a noi abbiamo un bellissimo camioncino. Che quello sarà molto probabilmente il nostro ostacolo, se naturalmente non sparirà nel lento di 20 secondi. Potevamo morire anche tranquillamente per un piccione, ma questo non è successo. Consigliatemi altri challenge da fare all'aperto, non so, tipo, se incontro il colore rosso, il video finisce, se tocco il colore blu, il video finisce, oppure se salto. Potevi inventare qualcosa del genere. Per una prossima challenge simile potremo fare un traguardo di 5 like, o anche 10, possiamo vedere. Intanto il video sta giungendo al termine, e secondo che abbiamo un bellissimo camioncino, come avete, di Levi Giovanni. Salutiamo il signor Giovanni che è lo sponsor di questo video. Grazie a tutti.